Come sta l'economia vicentina come partito questo 2024? L'economia vicentina sta bene come linea di fondo. Certo, in questo 2024 abbiamo un po' il raffreddore, visto che siamo in tema, visto appunto questa tarda primavera che ci sta un po' preoccupando appunto come tema. Ma non siamo a livelli evidentemente gravi. L'economia vicentina dicevo io sta bene perché è un'economia forte, è un'economia con centomila unità di impresa che insistono sul territorio vicentino, fortemente diversificata nei settori e nei prodotti e nei mercati. È un'economia che porta la provincia di Vicenza ad essere il primo esportatore italiano pro capite, la prima provincia italiana per export pro capite a Vicenza e la terza provincia italiana per export in valore assoluto, dopo Milano e Torino. Le cose si stanno complicando, si sono un po' complicate, però io sono assolutamente sicuro che i nostri imprenditori sapranno assolutamente riprendere lo slancio e già, devo dire, noi possiamo realizzare per la fine del 2024 ci sono dei segnali che ci inducono a riprendere un po' di ottimismo. Grazie per la visione!